Ehi, Zlatan, mi stai ascoltando? Sì, vogliamo parlare oppure giocare? Mamma, ho fame! Sado, ma è so di sopra! È molto indisciplinato, ci dà parecchi problemi. Tu disturbi me tutte e due, mi disturbate tutte e due! Stai calmo, Zlatan. Io sono calmo. Ogni tanto, perché non provi a passare la palla? A chi? A te. Con quei piedi la perdi subito. Pensi di essere figo? Non sei nessuno. Vaffanculo. Dovrai lavorare il triplo di così, chiaro? Siamo a cuore di questo signore qua, Zlatan Ibrahimović. Il nome comincia a girare, l'avrai sentito. È un cucciolo. Se non vuoi rispettare me, almeno dovresti rispettare il gruppo. Puoi andare a casa. Qual è il problema? Il solito. Pensano che io non vada bene. Che cosa vuoi? Essere il migliore. Ragazzino, come ti chiami? Zlatan! Zlatan! Ragazzino, 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 ragazzino! Grazie a tutti.